Questi bracciali hanno diverse possibilità, se andiamo nella chirurgia ricostruttiva può essere nelle donne, soprattutto nella parte nel caso di mastectomie, ma nel caso della chirurgia quando si fanno interventi di ripostruzione alle braccia piuttosto che di brachioplastica, quindi sono comunque interventi che richiedono di nuovo una compressione per migliorare la qualità del post-operatorio, sia del conforto della paziente nel post-operatorio, perché questa è anche una cosa importante, adesso io da chirurgoplastico parlo del risultato, ma quel tipo di indumenti danno conforto alla paziente, perché sentendosi compressa ha meno dolore, meno fastidio e quindi permette anche una migliore mobilità. Grazie a tutti i nostri spettatori, grazie a tutti i nostri spettatori, grazie a tutti i nostri spettatori,